Almeno 11 feriti per un attentato in pieno centro al Cairo. Una bomba esplosa nei pressi della Corte Suprema che nei giorni scorsi aveva invalidato parte della legge elettorale costringendo a un rinvio delle elezioni previste questo mese. L'attentato è stato rivendicato da un gruppo che si dice vicino ai fratelli musulmani.